Mobile sta in miglioramento però non era ancora in grado, probabilmente avremmo potuto anche rischiarlo ma nell'ottica delle tante partite che andremo ad affrontare si è parlato con lo staff medico e con lo stesso ragazzo che puntiamo mercoledì per averlo nel migliore dei modi. Nella mia testa ho ancora tanti dubbi perché abbiamo disputato due partite contro Chievo Udinese che hanno portato via energia adesso insomma domani avremo un risveglio muscolare e poi scioglierò gli ultimi dubbi sicuramente in attacco abbiamo tanti giocatori e quindi dovremmo essere bravi a farli ruotare cercare di volta in volta a capire quali saranno i migliori per la partita che andremo ad affrontare. Abbiamo tenuto un grande ritmo che dovremo continuare a tenere probabilmente alla vigilia del campionato nessuno avrebbe scommesso che saremmo stati non davanti ma perfino in lotta con Roma e Inter però adesso ci siamo, abbiamo l'obbligo di doverci rimanere fino alla fine sapendo che sarà difficile però insomma i ragazzi stanno facendo benissimo però dobbiamo continuare tutti quanti sull'onda dell'entusiasmo e di tutte insomma le certezze che il tempo ci ha portato a questa squadra.